Bullismo e cyberbullismo. Il Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato nell'aula di Palazzo Lascaris un momento di confronto tra adulti e ragazzi. Gli studenti della Scuola Media Meucci di Torino e dell'Istituto Lagrangia di Vercelli hanno esposto attraverso letture di testimonianze di vittime e carnefici le dieci regole per combattere il fenomeno, riconoscere il bullismo, non essere indifferenti nei confronti degli atti di bullismo, non lasciare solo alla vittima, spronarla a reagire, non lasciare impunito il bullo, denunciarlo, creare relazioni di amicizia contro il bullismo, creare un'alleanza educativa tra famiglia e scuola, imparare l'autocontrollo, dare il buon esempio. Il dialogo aiuta e aiuta agli altri a capire quali sono i nostri problemi. Ai genitori vorrei chiedere di fare una particolare attenzione all'atteggiamento dei figli. Gli insegnanti invece fanno già una buona parte, svolgono un ottimo mestiere con dei corsi sul bullismo che aiutano a comprendere le situazioni che caratterizzano chi è il bullo e chi viene bullizzato. Hanno partecipato al confronto il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, il presidente della Giunta Alberto Cirio, i consiglieri e assessori regionali, la garante per l'infanzia e l'adolescenza Ilenia Serra, il presidente del Corecom Alessandro De Cillis, Elena Ferrara e Maria Cecilia Micheletti del MIUR e il sostituto procuratore della procura minorile Marta Lombardi. La cosa fondamentale è che la politica in questo momento sia stata così vicina ai ragazzi e che venga trasmessa l'importanza del dialogo, del parlare con un adulto, con un amico, perché i ragazzi non si sentano mai soli e sappiano che possono sempre chiedere aiuto a qualcuno quando si trovano in queste situazioni così difficili. Tutti gli organi di garanzia come il garante per l'infanzia, il Corecom si occupano della tutela e dei minori in questo caso anche online e finalmente incontriamo i ragazzi, li incontriamo nella sede più autorevole della politica regionale che chiaramente è il parlamentino del Consiglio regionale del Piemonte. Quindi è un modo per far capire ai ragazzi che gli strumenti di tutela che noi mettiamo in atto nascono da qua e sono al loro servizio. Le istituzioni devono occuparsi di questi fenomeni sempre e non solo quando una drammatica notizia di cronaca riaccende i riflettori sulla questione, ha ribadito il presidente del Consiglio Stefano all'Asia. Per questo il Consiglio ha approvato nel 2018 una legge tra le più avanzate a livello nazionale con l'obiettivo di avere informazioni di contesto e capire gli ambiti di prevenzione e intervento.